Grazie a tutti voi, sono felice di essere qui stasera ancora una volta questo terzo anno a cui partecipo e ringrazio l'organizzazione è vero, così come è stato detto, i miei campi semperanno forse diversi per qualcuno ma sono rivolti ad un essere divino che ha dato a me e a voi oggi il giorno di vita ringrazio il maestro Giuseppe D'Arrico perché è stato lui a preparare le basi musicali qualcuno si può chiedere cosa c'entra, Teleton è Dio, Gesù ci insegna nella Bibbia di amare il nostro prossimo chi è il nostro prossimo, chi ci sta accanto, il nostro amico, il nostro parente un altro che sta al di là del pianeta, una persona che ha bisogno del nostro aiuto un piccolo gesto per un grande obiettivo e quello è Teleton con il nostro gesto, senza altro, possiamo aiutare qualcuno, possiamo aiutare Teleton per la ricerca delle malattie igieniche Dio vi benedica, grazie per l'attenzione Grazie Applausi Grazie 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 Canta al Signore il mondo in te, canta al Signore il tuo canto, canta al Signore il mondo in te, perché lì è grande, grande e lontano, perché lì è grande, grande e lontano. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Alleluia, alleluia, canterò un tuo canto. Alleluia, alleluia, canterò un tuo canto. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io celeberò, canterò al Signore, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Io lo dolerò, canterò un tuo canto. Alleluia, alleluia, canterò un tuo canto. Alleluia, 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 canterò un tuo canto. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Grazie.